Rinoviamo l'invito, adesso deve partire in categoria esordienti B e C maschile, su linea di partenza categoria B e C maschile, ragazzi tutti pronti e allineati, guardate giudice, si sta preparando, attenzione, via! Grazie! 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 Vediamo categoria esordienti B e C maschile sul percorso di gara, il gruppo si sta già sgranando, vediamo che qualcuno sta già tentando a lungo sul percorso quest'oggi all'interno del Pia di Spagna, contestualmente invitiamo categorie esordienti A femminili a prepararsi sulla linea di partenza, categoria A femminili sulla linea di partenza, rinnovo anche per loro l'invito, attenzione!